Belli freschi, oggi sono qui ritornato con una recensione di una serie tv, stavolta parlerò della serie Amazon Prime Video, Amazon Prime va bene, e The Americans, sei stagioni ambientata in America appunto a ridosso degli anni 70-80 e vede protagonisti Kerry Russell e Matthew Rhys che interpretano rispettivamente Elizabeth e Philip Jennings che sono due spie russe del KGB che appunto sono state mandate in epoca appunto di guerra fredda in America, hanno fatto dei figli e si sono infiltrati e eseguono diverse operazioni appunto per la madrepatria, per la grandissima Russia. E questo video non è filo sovietico, non è filo comunista, ma ovviamente quando tu guardi una serie e i protagonisti sono di un certo orientamento, tutti i midesimi in loro, e per quanto io abbia delle idee totalmente, non totalmente, ma comunque abbastanza diverse rispetto a quelle dei protagonisti, a quelle comunque della Russia, dei tempi eccetera, l'ho apprezzata moltissimo perché sono passato sopra queste stronzatine, perché non me ne frega niente, la serie è una bomba, e la narrazione è volutamente lenta, ma la narrazione è volutamente lenta, però funziona veramente da Dio, loro due sono bravissimi e penso in sei stagioni di non essere minati una volta, forse leggermente nella quarta stagione è successo un po' meno, però comunque molto potenti, questa serie si basa più, si basa sulla lentezza, come già detto, cioè è come dire un... ho fatto, quando ci ho pensato, ho fatto il paragone con gli horror, per dire ci sono gli horror pieni di jumpscare, che vogliono spaventare lo spettatore in questo modo, o ci sono horror appunto un po' più angoscianti, che appunto ti vogliono incutere paura col tempo, con la suspense, tutte queste cose qui, e qui questo è l'esempio di Americans, cioè non è una serie tv drammatica, d'azione, vabbè relativamente, drammatica, storica, ok, quel che volete, però i colpi di scena ci sono, ma non sono tantissimi, si basa più su una narrazione lenta, ma fluida, la caratterizzazione dei personaggi, perché i personaggi sono tutto, l'interpretazione è assurda, letteralmente ogni personaggio fa un'interpretazione incredibile, io consiglio ovviamente questa serie a chiunque comunque apprezzi questi prodotti di spionaggio, eccetera, perché è veramente ben fatta, è una serie abbastanza sottovalutata perché ne parlano in pochi, e io l'ho scoperta completamente a caso mentre cercavo una serie appunto da vedere su Amazon, e guardatevela perché è veramente una bomba, sono sei stagioni, le prime cinque da 13 puntate, la sesta da 10, hanno tenuto una coerenza nei personaggi, nella narrazione dalla prima puntata all'ultima, e il finale è molto bello, mi sta avendo un attacco di cuore, sono vivo, ok ci sono, bella, e stavo dicendo che, ok stavo dicendo scusate un attimo, ok, niente, i cornetti mi sa che mi hanno avvelenato con uno della cicuta, barista avesse a cicuta anche stasera, non mi ricordo se è una città, un pezzo di zotto o di mezzo sangue, il pari è mezzo sangue, è proprio mezzo sangue, o forse era sangue, o forse è un altro pezzo di merda di quel falito mascherato, l'unico mascherato che rispetto sono me stesso, cioè è me stesso, sono, è, vabbè, non perdiamoci con queste cazzatine, e guardatevela comunque, veramente, veramente una bomba, bella, finita la recensione. Grazie.